le mese dei poveri sempre più frequentate oltre che da senza tetto persone in stato di profonda indigenza anche da fasce della popolazione sempre più in difficoltà economica a causa della perdita di lavoro o da padri soli con uno stipendio che non gli consente il mantenimento del tenore di vita originario anziani e fasce deboli sono queste oltre che un luogo di sostentamento e anche un posto di incontro di confronto e di sostegno per non far sentire ancora più emarginate dalla società queste persone e soprattutto che non si sentano mortificate nel loro animo dal dover frequentare posti come questo per i casi della vita a rendere tutto questo un peso meno opprimente possono essere anche un ambiente confortevole accogliente e dignitoso nuovi arredi nella mensa cittadina più frequentata quella di san paterniano scalderanno gli animi dei suoi frequentatori in queste fredde giornate invernali oltre all'amore dei suoi volontari e di pasti caldi della cucina 120 sedie 20 tavoli sono stati acquistati dalla presidente laura cecconi dal suo staff con i 5 mila euro provenienti dalla regione marche arrivati grazie ad un emendamento della legge finanziaria durante l'ultimo assestamento di bilancio seguito personalmente dal consigliere regionale mirco carloni noi chi ha ruoli pubblici e quant'altro può soltanto dare una mano contribuire fare in modo che il loro sforzo sia valorizzato e sostenuto e magari quel poco che si riusciamo ogni anno ad attribuirgli poi gli serva per fare ulteriori raccolte di contributi che appunto invito a fare in favore dell'opera padre pio per poter continuare quest'opera meritoria davvero che fanno per la città grazie a tutti